ciao sono davide di progetto casa se hai deciso di mettere in vendita la tua casa immagino ti starai chiedendo quale sia la strategia migliore cioè capire soprattutto come e a chi affidare la tua casa intanto cosa significa sottoscrivere un incarico in esclusiva significa che il venditore si impegna per un certo periodo di tempo a lasciare che la gestione della vendita della trattativa della sua casa sia affidata a un solo agente immobiliare incaricato attraverso un contratto scritto la fiducia in questo lavoro è molto importante concedere un incarico in esclusiva significa riconoscere le capacità professionali dell'agente immobiliare a cui ci si rivolge è quindi essenziale conoscere bene cosa farà per te quel professionista capire come svolgerà il suo lavoro come e cosa investirà perché si giunga la vendita e questo è quello a cui punto all'inizio del mio rapporto con ogni proprietario dobbiamo piacerci professionalmente fidarci l'uno dell'altro così che se riconoscerai il valore della persona che avrai davanti sarà poi naturale affidarmi la gestione esclusiva della vendita della tua proprietà i vantaggi poi che verranno saranno diversi te ne indico solo alcuni con l'esclusiva lavorerò al 100 per cento sul tuo immobile investendo denaro e tempo la gestione sarà effettuata come se quello fosse l'unico immobile che ho disponibile dedicando adesso tutte le energie le competenze e le risorse necessarie alla conclusione dell'affare dando l'incarico a più agenzie si rischia invece di vedere presentata la tua casa senza l'attenzione che merita al contrario una volta che avrai scelto la mia consulenza investirò completamente nella tua casa presentandola al meglio con le migliori tecniche e portando in visita solo clienti qualificati e giusti eviteremo inoltre di veicolare un messaggio sbagliato all'acquirente quasi che quella casa debba essere venduta ad ogni costo rischiando di sminuirla del suo variare valore quando invece necessario garantirti che tu ottenga il miglior prezzo di mercato possibile ma l'esclusiva permette anche di rendere più fluida lineare e trasparente ogni possibile trattativa sarò il tuo unico referente le informazioni raccolte nella verifica e le decisioni prese insieme in fase di costruzione del nostro accordo di vendita verranno comunicate e gestite in maniera tale che l'acquirente abbia un'unica persona con cui parlare senza trovare annunci duplicati dettagli presentati differentemente prezzi e misure diversi tutto ciò crea confusione incertezza e anche se tu dovessi acquistare non credo che andresti ad approfondire un immobile presentato ogni volta con informazioni differenti vero e pensare che far gestire casa tua da più agenzie possa moltiplicare le occasioni di pubblicità non è reale chi cerca una soluzione come la tua la troverà comunque andando sui portali sui social internet infatti amplifica l'annuncio che pubblicherò stai sicuro che non passerà in osservato perché applicherò le opportune tecniche di marketing affinché la tua casa venga vista e generi l'interesse nell'acquirente parliamone sono sicuro di poterti essere più utile di quello che pensi ciao